Oggi faremo un piatto che sicuramente è conosciuto da tutti. A tutti piace mangiarlo che a tutti piace farlo. Credo che sia sicuramente un piatto che si faceva anche a casa tua. Assolutamente, si faceva tutti assieme e ci divertivamo un sacco. Prepariamo gli gnocchi di zucca e patate con erbi aromatiche. Per quattro persone servono 500 grammi di patate, 500 grammi di zucca, 250 grammi di farina, 150 grammi di pecorino, un uovo, uno spicchio d'aglio, timo, maggiorana, salvia e rosmarino, sale e olio, quanto basta. Allora Eleonora, pronta a fare questi gnocchi? Prontissima a mettere le mani in pasta. Perché in genere da noi si facevano sempre a casa della nonna, i gnocchi erano il pranzo della domenica, ma con il ragù napoletano. Anche da noi si facevano quando era festa e insieme alla mamma e a mia sorella ci mettevamo lì e ci divertivamo un sacco. Con il ragù trevigiano. Che non è sicuramente il vostro. Questa allora è l'alternativa di medio, perché non è il mio ragù, è il tuo, ma è un piatto del monastero. È un piatto del monastero. Io e Eleonora giochiamo spesso sul nord-sud, sulle nostre differenze culturali e specialmente culinarie. La cucina diventa un po' il nostro campo di battaglia per sfidarsi a chi fa meglio cosa, cosa vale di più, cosa vale di meno. Ma lo facciamo anche per evidenziare che nonostante abbiamo delle diversità, possiamo comunque vivere insieme ed essere affiatate come comunità e anche come consorelle. Questa è la mantovana. Ottima per questo tipo di ricetta. In effetti ci vuole una zucca per ogni ricetta. Un aneddoto simpatico è che ha questa forma, che sembra quasi un turbante, e viene chiamata il cappello del prete. Te lo immagini al donno con questa zucca a destra. La svuotiamo, quindi togliamo i semi che ci sono all'interno. Per questa ricetta mezzo chilo ce ne basta mezza. E poi col coltello, con un po' di pazienza, si toglie la buccia. I coltelli li usa sempre lei, perché è quella pericolosa. Noi abbiamo tante zucche, per poterle utilizzare tutto l'anno, facciamo anche le marmellate e le abbiniamo ad un frutto. Per esempio la zucca con la mela, la zucca con l'albicocca, la zucca con la pesca, di modo che nell'assemblaggio la zucca garantisce la pastosità della marmellata. Faccio tocchetti abbastanza grandi, tanto dopo va a schiacciare. Ecco qui, anch'io ci sono, ho finito di pelarla. Della zucca veramente non si spreca niente. La buccia, una volta tagliata, si può mettere in forno con dell'olio sopra e diventano delle chips croccanti da mangiare come fossero patatine. Inoltre i semi, fatti lavati, asciugati, anche questi si possono mettere in forno con del sale sopra e diventa anche qui uno stuzzichino salato da mangiare. A Napoli si chiama Moushpasso. Moushpasso? Eh, allora andiamo a Spasso, va! Prendiamo la patata. Ok, adesso mi è la zucca. Non dimentichiamoci il sale, quindi tieni questo, saliamo tutto e poi facciamo cuocere per una ventina di minuti. Bene, è terminata la cottura delle nostre verdure, le abbiamo fatte scolare e le abbiamo anche lasciate un po' raffreddare in modo che poi quando li lavoriamo con la farina e tutto assorbono meno farina, quindi si lavorano un po' meglio. E inizio io adesso a schiacciarli. Eleonora, mentre tu schiacci le patate, io preprendo tutti i profumi dell'orto e li trito per il suo. Eccoli qui. Noi abbiamo tante erbe aromatiche in orto per cui ci permette di lavorare insieme con tanti profumi, salvia, origano, maggiorana, timo, ma si possono mettere anche altri odori, quelli che principalmente anche avete in casa, una piantina di basilico, una fogliolina di origano, un pochino ce l'hanno tutti. Ok, questi vanno bene. Io ho finito di schiacciare patate e zucca, ora alle verdure schiacciate iniziamo ad unire l'uovo e la farina. La farina ne lasciamo un po' indietro e la aggiungiamo man mano. Iniziamo a impastare. Vai, vai che ti sporchi un po' le mani. Beh, quando ero bambina mi divertivo un sacco a impastare la pasta degli gnocchi qui. Poi diventavo matta perché con la farina è troppa, è poca e non si impasta e rimane sulle dita. Con gli gnocchi bisogna sempre stare attenti alla farina perché la patata assorbe la farina in continuazione, quindi più se ne mette e più la patata è come se lo richiedesse. Quindi bisogna stare attenti a non cedere in tentazione e mettere il giusto, quindi quel tanto che basta per far diventare un composto omogeneo, ma non troppo duro, non troppo solido, deve rimanere morbido. Sai Ele, nel momento degli gnocchi, quando andavo a casa di mia nonna, una delle cose che mi piaceva fare è rubare. Viene sempre uno di nascosto mentre li faceva crudi, perché mi piacevano tantissimo. E mia nonna diceva sempre, il locai sta arrivando. Cosa che diceva? Eccola che sta arrivando. Eleonora, allora mentre tu continui l'impasto, io porto i miei profumi in una padella con un fondo di filo d'olio di oliva extravergine e li lascio leggermente soffriggere. Quindi mi avvicino, metto prima l'olio. Saggio? Vai. Dal centro? Dal centro. È più forte di lei, la pasta degli gnocchi proprio non riesce a resistere e ha ceduto alla tentazione di mangiarla. Ele, ma quando facevi gli gnocchi con i tuoi, ognuno aveva un compito? Come facevate? A me piaceva tagliare e fare i gnocchetti. Mia mamma invece era l'addetta alle striscioline e mia sorella faceva le righine con la forchetta. Ah, ecco bene. E ora cosa facciamo? Io le striscioline e tu tagli o il contrario? Ognuno si fa la sua striscioline, così vediamo chi la fa meglio. Ah, ok. È una gara allora. È una competizione. Sai, le gnocchi in monastero li faceva sempre Sor Benedetta. Allora era l'addetta a tutti i piatti che hanno un impasto e poi ci faceva venire a noi del noviziato ad assaggiare quello che faceva. Non hai perso l'abitudine. No, da mia nonna sono passata Sor Benedetta. Adesso che abbiamo terminato di mettere i nostri gnocchi sul vassoio e la nostra acqua sul fuoco precedentemente salata in ebollizione andiamo a mettere i gnocchi su. Andiamo. Eccolo, aiutami anche tu. Tienimi tu il vassoio che così io li metto meglio con due mani. E ecco qua, mi faciliti il lavoro. Sai come si capisce quando gli gnocchi sono pronti? Quando vengono a galla. Ah, ecco. Altra cosa è di non buttarle tutti insieme ma un po' alla volta altrimenti può finire che si attacchino. Eccoli qua. Perfetto. Ecco Eleonora, sono venuti tutti su a galla. Adesso rialziamo la fama alle nostre erbe e mettiamo direttamente gli gnocchi appena scolati dentro al nostro sudetto. Senti che bel rumore? Questo lo lasciamo qui e gli diamo una mescolata. Ecco qua, appena rosolati poi li mettiamo in piatto. Oh mamma mia, che profumo di erbe! Guardati qui che spettacolo. Do a te l'onore di mettere il tocco finale su questo piatto. Aggiungiamo una bella spruzzata di formaggio pecorino. Perfettino. E adesso non ci resta che assaggiare. Buonissime. Sul Benedetta sarebbe stata fiera di lui. Assolutamente, fierissima. Gnocchi di zucca e patate con erbi aromatiche dalla cuscina delle monache direttamente a casa vostra. Per preparare gli gnocchi di patate e zucca con erbi aromatiche abbiamo pulito e tagliato patate e la zucca e lessate in acqua bollente per circa 30 minuti. Una volta cotte, le abbiamo schiacciate e unito la farina, l'uovo e lavorato l'impasto. Nel frattempo abbiamo sminuzzato le erbi aromatiche e fatte rosolare con olio a fiamma medio-bassa per qualche minuto. Con l'impasto abbiamo formato dei filoncini e tagliato gli gnocchi. Abbiamo cotto gli gnocchi in acqua bollente, li abbiamo scolati una volta venuti a galla e saltati qualche minuto con le erbi aromatiche. Una volta impiattato, abbiamo guarnito con del pecorino grattugiato.